Ciao, nel video di oggi andiamo a vedere come chiedere alla ragazza di uscire senza fare figure di merda. Io sono Gio Dio Lorenzo e questo è Soluzione Attrazione. Allora, ci sono tre concetti fondamentali che tu vuoi seguire. Il primo è che lei deve essere attratta per accettare di uscire con te, e quindi, per esempio, di scambiarvi quello che è il numero. Se questo non accade, tu sicuramente poi la devi provare, tanto per entrare nell'abitudine di chiedere il numero e di scambiarvi quello che è il contatto, ma molto probabilmente questa roba non porterà da nessuna parte. La seconda cosa che vuoi tenere presente è che non vuoi fare cose impegnative, o proporre cose impegnative come cene, cene suntuose, qualsiasi cosa che comporti un investimento troppo grande da parte tua, già nel momento in cui lei non ha fatto ancora nulla per meritarselo. Il terzo punto è quello che tu vuoi dire a livello verbale, ma come prima cosa andiamo a vedere cosa non dire. Quello che tu vuoi fare, quindi, è non chiedere come una fichetta e non essere formale. Ora, nello specifico, andiamo a vedere tre esempi. Esempio numero uno, ma quindi ti va se usciamo insieme qualche volta, Amanda? Guarda, purtroppo sono molto impegnata in questo periodo. Esempio numero due, ok, quindi ti andrebbe di uscire qualche volta per un appuntamento io e te? Guarda, in questo momento della mia vita sono molto, molto impegnata, magari più avanti. Esempio numero tre, e quindi ti va se facciamo qualcosa insieme qualche volta? Guarda, sono presissima dagli esami in questo periodo, magari da qualche mese. Ok, visti questi casi tragicomici, francamente, andiamo a vedere quello che tu invece devi fare per ottenere un sì a quella che è la tua richiesta. La prima cosa che tu devi fare è stare attento a quella che è la tua subcomunicazione. Infatti, non so se hai notato, ma cercavo di comportare in maniera particolarmente esitante e per di più il mio pitch vocale andava verso l'alto, ne abbiamo parlato in tanti video. E la mentalità nella quale tu vuoi entrare è che lei può accettare, può rifiutare, se rifiuta chi se ne frega. Next one. Adesso vediamo quindi cosa dovresti fare e dopodiché ti cerco di smontare quello che ho appena fatto. Ok, Amanda, sembri interessante. Devo andare adesso, ma è stata una conversazione piacevole. Continuiamola di fronte al drink. Sì, perché no? Prendo il tuo numero e ti mando un messaggio. Ok. Quello che succede quindi è che le direi qualcosa del tipo c'è Amanda, c'è un nome, sembra interessante, e quindi la premi per qualcosa che avresti dovuto far uscire in quella che è l'interazione e che non è legata al suo aspetto fisico, ma più a quella che è la sua personalità, possibilmente. Quindi ti devo dare qualcosa standard, tu puoi più giocare con quello che è successo all'interno di quella che è l'interazione. La seconda cosa che fai è dire, devo andare, quindi sei tu che tagli l'interazione per primo, qualora sia possibile, almeno. E proponi di continuare questa conversazione di fronte a un drink o quello di cui avete parlato e alla fine, e questo è cruciale, non le chiedi qualcosa del tipo quindi ti va se usciamo, vuoi uscire, ti va se ci vediamo, bla bla bla. Perché più tu chiedi e più massimizzi quella che è la chance che in realtà lei non risponda. Quello che vuoi fare è semplicemente dirle, prendo il tuo numero, ti mando un messaggio. Se non hai neanche quel livello di interesse da parte sua, puoi andare ancora più base. Prendo il tuo numero e continuiamo questa conversazione via messaggio, che richiede meno ubbidienza e investimento da parte sua. E quello che farai quindi nel momento in cui lo dici è prendere il tuo telefono e glielo sbatti in mano, di modo che diventi ancora più difficile per lei rifiutare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.